Cari concittadini, do un ulteriore aggiornamento per quanto riguarda i casi di Covid qui a Pomigliano. Dobbiamo registrare dall'ultima settimana un incremento discreto del numero dei pazienti affetti da Covid. Allo Stato dobbiamo lamentare 29 pazienti affetti da Covid, di cui 3 sono ricoverati e 26 stanno in assistenza domiciliare. I casi sono diffusi sul territorio, non ci sono focolai, quindi da un'analisi che abbiamo fatto quasi tutto il territorio di Pomigliano d'Arco è interessato. Quindi il problema non è di prendere provvedimenti di chiusura di zona o di altra, ma quanto di ricordare a voi quelli che sono gli atteggiamenti che servono a tenerci lontana da questa malattia. Le tre cose sono sempre le stesse, il lavaggio delle mani, il distanziamento e la mascherina. Voglio ricordare che la mascherina viene portata non solo nei luoghi chiusi, ma anche nei luoghi aperti. Quindi dobbiamo continuare ad essere sensibili a questa malattia, perché veramente ci troviamo in una fase in cui la nazione italia potrebbe passare a un secondo lockdown. Voglio aggiungere che seguirò con molta attenzione, oserei dire ora per ora, il numero dei casi e ve ne darò contezza anche se tutti i giorni in modo tale da rendere la comunità attenta e informata su questo problema.